Montesilvano in vista dell'estate inizia il suo restyling su strade con segnaletica nuova ma anche più sicurezza per gli incroci. Il voto dell'approvazione del bilancio che avverrà tra qualche settimana sicuramente rappresenta un momento importante per la vita amministrativa del territorio e subito per il bilancio abbiamo cantierato alcuni interventi quali l'ultimazione del muretto sul lungomare, una serie di interventi per quello che riguarda le manutenzioni della strada per renderli più agibili ma soprattutto più sicure e anche un intervento su tutto il territorio volto ad assicurare una segnaletica migliore e ben visibile a tutti. Ottavio De Martinis che ricopre anche il ruolo di presidente della provincia annuncia che l'ente tramite il PNRR ha presentato un progetto di circa 70 milioni di euro che prevede la realizzazione della seconda canna della galleria sulla statale 714 e di un nuovo svincolo verso Cappelle sul Tavo. A tal proposito anche come in qualità di presidente della provincia mi piace ricordare quanto l'ente che rappresento ha presentato dei progetti che saranno molto molto importanti qualora accolti per tutto il territorio, non solo Montesilvanese, quali ad esempio il raddoppio della canna della pianacce riguardo all'assatrezzato e anche altri interventi molto molto importanti.